Buonasera ragazzi, eccoci, Juventus-Bologna 1-1 Cioè non è possibile che devi andare a complicarvi la vita E poi dalla Roma quinta in classifica che ti raggiunge, che ha una partita difficile al San Paolo Vai a pareggiare in casa col Bologna che oggi si doveva vincere Vabbè ragazzi Questo è uno sfogo, un piccolo sfogo Però non è possibile quello che ho visto io La rissa finale ho visto pure nel finale di partita Poi il primo tempo un ottimo Bologna è stato, sì sì Senza centrocampo, era la Juve, siamo a posto Il gol di Arnautovic è regolare perché Chiellini l'ha tenuto in gioco sul filo era Poi parliamo delle due espulsioni del Bologna Su Mauro è spulso per fallo da ultimo uomo Per fallo su Morata Che era fuori o dentro l'aria Se succede una delle altre squadre non so come impazzivano Dicono che era dentro l'aria il fallo Doveva essere calcio di rigore per la Juve Va bene, va bene Purtroppo ha fischiato fallo da fuori aria Sbagliare è umano Purtroppo Poi Medel è spulso in maniera ridicola Prima protesta con l'arbitro Prende il giallo Poi manda in quel paese l'arbitro Giallo Rosso E spulso pure Medel Bravo il cretino di Medel Si vede che è un ex giocatore dell'Inter Come i prescritti si comporta Peccato, guarda Il pareggio di Vlaovic Che oggi Ho preso questo Vi piace? Non lo trovate bellissimo Stupendo Dusan Vlaovic L'assist in rovesciata di Morata è stato Colpo di testa di Vlaovic Questo gol mi ricorda Milan e Juventus 0-1 Con la rovesciata di Del Piero E poi colpo di testa di Treseguet Stesso identico gol L'hanno fatto Non succedeva forse dal 2003 o 2004 Quel gol Quel gol stupendo Peccato Ora Lazio-Torino Vediamo Quanto stanno però Fammi controllare Voglio controllare il risultato Stanno ancora 0-0 Se non dovessero vincere nel Lazio Nel Roma Guarda Dicono Se dovessero finire in parità le due romane Non è cambiato nulla La classifica Ok Lasciamo perdere l'Atalanta Che è distante da un bel po' La Roma c'è una partita molto difficile lunedì Che contro il Napoli A Napoli E non so Adesso abbiamo mercoledì La Coppa Italia Contro la Fiorentina Abbiamo un gol di vantaggio E la Juve deve chiudere il discorso qualificazione Purtroppo le assenze al centrocampo Si erano sentite Ma avete visto al centrocampo Nella formazione Danilo è quadrato al centrocampo Che non erano i suoi ruoli Bestemmia al calcio L'arbitro Ha arbitriato bene la partita Non ha sbagliato nulla l'arbitro Solo una L'espulsione di Sumorossi Però Quel fallo era dubbioso Se era fuori o dentro l'area Sesso identico ragionamento Come era successo in Juventus Inter Il fallo su Zaccaria E il fallo di bastoni su Zaccaria Ok Vabbè Non appelliamoci a queste cose Perché ormai È andata questa partita archiviata Adesso mercoledì Testa la Fiorentina Perché c'è una qualificazione Per andare in finale Spero che il mio video vi è piaciuto Lasciate un like al video Commentate Iscrivetevi al canale Se siete nuovi Se siete già iscritti Cliccate subito la campanella Per non perdervi Gli altri miei prossimi video Che usciranno Seguitemi sia su Facebook E anche su Instagram Ah un'ultima cosa Buona Pasqua a tutti almeno Al prossimo video E sempre fino alla fine Vamos Juve Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima